Quando sono insieme è vero che fanno un po' comunere, ma uno per uno sono brave persone. Poi quando sono in gruppo, poi bombardano. Ma sai perché poi quando li vedi in gruppo sembrano tutti praticamente fratelli? Forse ho un'idea. Perché sono tale quali. Ah, noi siamo talebano e tale figlio. Dopo 113 anni a Washington, la Camera ha riconosciuto che l'inventore del telefono è Antonio Meucci. La Western Union gli rubò i progetti e vi fece lavorare bel. Nel frattempo, fin qui è tutto vero. Tutto vero. Nel frattempo, i gestori telefonici di tutto il mondo hanno riconosciuto Bell come il loro santo patrono per aver sancito il primo principio della telefonia moderna, ovvero appena posso ti fotto. C'era inventata lui. Bell è stato l'inventore. Che bell. Quando Meucci sperimentò il suo teletrofono, il prototipo del telefono, Bell aveva soltanto due anni. Nonostante questo, gli estremi difensori di Bell continuano a sostenere che fu lui a inventare il telefono, perché già a due anni prendeva un bastoncino, lo appoggiava all'orecchio e faceva tu tu. E su questo fondalo però, capite che è un po' debole la cosa. Francesco Alfare Un Giro, studioso di storia della scienza e della tecnica, sostiene che nell'essenza stessa del telefono c'è la soluzione della questione Meucci Bell, due punti. Il telefono è certamente italiano perché fa tu tu. Se fosse americano farebbe You, You. Il nuovo degli Strokes con Undercover of Darkness. Questa è Radio DJ. Gli Strokes che sono questo gruppo new yorkese molto fighetto con il cantante John Casablanca. Sì, sono anche un po' Strokes. Mi han detto, adesso io non è che li conosco di persona. Io ci esco stasera. Con chi? Con gli Strokes. Davvero? Sì, sono qui a Milano. Dove andate? Andiamo all'isola di White, il locale di Buccinasco, quello dei Dick Dick. Gli ha detto, we want to see something typically Italian. Vedi, vedi, vedi. Ma tu sai dov'è? Sì, però aspetta, so dov'è nel senso che una volta mi ci sono trovato dentro. Dove è l'isola di White? Ho dovuto prima farmi bendare, ti fanno fare un giro per disorientarti e poi ti fanno cantare ipi, ipi, ipi. Se la canti giusto ti sbendano e sei lì. Se no, se non ti fanno entrare. Senti, sai come si chiamano i componenti del gruppo degli Strokes? Certo, sono Steven, Folkers, Niemann e Brasmat. Brasmat. Sai perché te l'ho chiesto? Sì. Perché la scaletta a questo punto prevede una rubrica il cui titolo è... Il cui titolo è Florileggio di nomi tradizionali per bambini e bambine in omaggio all'usanza di battezzare i nuovi nati con nomi di santi del calendario cristiano, così come raccomandato dal santo pontefice, invece che con nomi del mengatipo, oceano, falco, mela, libeccio o catastrofa. Ovvero, ecco un po' di nomi normali, tutti veri, che ognuno sarebbe orgoglioso di portare. Sezione MZ, perché qualche settimana fa abbiamo fatto AL. Ah, è vero. Tutti, diciamo che di ognuno di questi nomi si festeggia il relativo santo sul calendario. Quindi si completa qui, non è che poi c'è un appendice per la Y e la VW, no, non sono santi italiani, quindi... Però potrebbe esserci una ridondante, un ridondante ritorno di AL. Speriamo di no, speriamo di no. Con la M, Macrobio o Macrobio? Macrobio. Macrobio, Manasse, Menalippo, Muritta e Meure. Esatto. Tutti veri, eh ragazzi? Santa Meure. Con la M, Nanfagnone, Neofito, Nepomuceno, Notburga, Nersa. Esatto. Tutti veri, Lenos. Mia figlia si chiama Notburga. Io conoscevo un Nepomuceno, non mi ricordo chi era, ma c'era. Ti dico di più, li conosco tutti. Lenos, cosa ti devo dire? Conosco un sacco di gente. Ti apro la rubrica del telefono, M, Nepomuceno, Notburgo. Guarda la O, se hai per caso un Obdulia. Certo, no, c'è un Obdulio. Un Otmaro, un Osea, un Ortolano e un Oranna. Ortolano è bello. Certo. Poi con la P c'è Paffnuzio, Pantagato, Parasceva, Patermuzio e Pelagia. Se c'è Paffdeddi non ci può essere Paffnuzio. Con la Q c'è Quadrato, Quieta e Quinzio. Con la R, Redenta, Rombaldo, Rossore, Rosula e Rovena, col di doppia. San Rossore. Con la S c'è Sadoc, Sadot, però non c'è Sabot. Non c'è Sabot. Che è il santo protettore delle donne d'estate. E neanche Sadic. Salutare, Saturo, Scubicolo, Scamargdo. Scamargdo. Scamaragdo, scusami. Scamaragdo, no, non è anche questo. Smaragdo. Posso dire che Rivaluto, Falco, Chanel, che si chiamano Smaragdo, sono casi. Tarsiccio, Teoctisto, Tiragnone, Trasfigurato e Tua. E' Trasfigurato e Tua. Esiste, è Trasfigurato, è un santo famoso. Di terzo nome sono Trasfigurato, non sapevate. Ti ho visto l'altra volta dalla Dandini e eri Trasfigurato. Nicola Riccardo Trasfigurato, però non c'è nei documenti perché è uno di quelli... Con la U, Ubaldesca, Ulfa, Uranio, Ursicino, Ursmaro. Sì. Con la V, Vallabonsa, Verecondo, Verissimo, Vunibaldo e Villana. E con la Z, Zambda, Zoello, Zanobi, Zetico, Zotico. Ricordiamo, sono tutti nomi autentici. Cioè, Zotico è un nome. Zotico è un nome e nel calendario cristiano, dato che non c'è un santo al giorno, ci sono dei giorni che hanno magari cinque, sei, sette santi, questi sono tutti santi, martiri, per cui... Ecco, però quelli che non ci sono, tu che hai fatto un po' da recensore di questa rubrica, è perché davi per scontato che fossero talmente noti che non valeva la pena starli a citare in qualche modo. No, perché non ci stavano in una riga. Perché, per esempio, giuro, il mio ciabattino, da cui una volta ogni tanto mi capita di andare, e si chiama Osgardo. Bene. Che sembra il nome inventato, ma c'è anche il segno fuori. Da Osgardo. Da Osgardo. Molto bello. Eh, c'è sempre qualcosa in più. Io conosco un Milvo, in provincia di Ferrara, che è molto bello. Il Panterone di Goro. Il Panterone di Goro. La zona è quella. Tra poco torniamo con il Carocco e i Mangoni. Cordialmente 2011, l'anno del contatto, ancora pochi minuti, e possiamo salutarci, però prima c'è il karaoke di Mangoni, che ovviamente è un karaoke non qualunque, perché una volta all'anno c'è un appuntamento fisso, che è quello con il Sanremo appena terminato. Esatto. Hai seguito il Sanremo di quest'anno? Molto bello, molto bello. Cosa che ti è piaciuto? Diciamo che l'ha seguito a spizzichi e bocconi. Nel senso che mangiavi come sempre. Esatto. No, nel senso che eri bocconi dopo che hai ascoltato. O eri alla bocconi. No, nel senso che poi ho fatto le mie brave garette di sci, quindi per esempio andavo a letto presto. Oh, ragazzi. Ti è tornato sulle piste? Com'è andata? Diciamo alterni risultati. Cioè si vede che c'è un po' allenamento. Ma tu con gli sci corti piuttosto? Tu che sei della vecchia generazione. E infatti mi dicono, quando mi alleno, quelle poche volte che mi alleno mi dicono ma tu non riesci a sfruttare lo sci corto. Cioè tutte le potenzialità che dà lo sci corto non le uso tanto. Quanto sono corti tu agli adesso? Troppo corti, un 83 secondo me dovrebbe essere un 88, 87, 88. Ma cosa fai il Super G? No, gigante. Ti posso dire... Ma lui è Super G, quindi è chiaro che fa Super G. Super G lo vado appunto. Ti posso dire il mio approccio con lo sci corto? Ne inchiodo due. In modo... Totale quattro sci... Ho capito, tu non li metti uno di fianco all'altro. Li metti uno davanti e uno dietro. Sì, in modo che la parte rialzata sia sia davanti che dietro. Mentre mi giro faccio una cosa... O ora vai indietro. O faccio un trick o qualcosa e sono già... Ok. Benissimo. Questa sera ci fai riascoltare la canzone che insomma praticamente dall'altro ieri non conta più niente. Perché pensa, questa canzone di Valerio Scanu per un attimo si è potuta freggiare del titolo di campione in carica. Eh, ormai basta. Adesso è arrivato agli atto vecchioni. È un po' come Miss Italia che quando viene eletta... Io ho letto questo sul regolamento. Pochi lo sanno. Per regolamento, quando entra in carica la nuova Miss Italia dopo la nomina, come si dice, dopo che ha vinto... La proclamazione. Dopo la proclamazione, la Miss Italia precedente viene declassata a cessa. Cioè proprio così. Sì, sì. Cessa a cessa. Sì, sì. Si viene strappata... Ma perché cessa di essere Miss Italia. Esatto. Bene, quindi la canzone di Valerio Scanu che si intitola... Per tutte le volte che... Ok, sentiamola in tutti i luoghi, in tutti i live. Bravo. Che bella. Per tutte le volte che... Mi dici basta e basta più non è... Non corrisponde il flusso delle tue parole, battito del cuore. Per tutte le volte che... Mi chiedi scusa e scusa più non è... Ma trovi sempre... Il modo di farmi sembrare il simbolo del male. Maria, ascolta. Cosa ti sei persa? A chiamare quello lì. Per tutte le volte che... E tua la colpa forse non lo è... Ma il dubbio basta... A farmi ritrovare quella voglia di gridare... Ma... Poi c'è una volta in cui... Scatta qualcosa fuori dentro noi... E tutto il resto... È piccolo come uno spiglio impercettibile... Come se un giorno freddo in piedi inverno... Nudi non avessimo... Poi tanto freddo perché noi... Colpevoli sottosso al mare... Fa l'amore in tutti i modi... In tutti i luoghi, in tutti i laghi... In tutto il mondo l'universo che ci insegue... Ormai siamo irraggiungibili... Tu sei irraggiungibili... Ah, chi detto... Bravo, chi è razzesco... Tu sei irraggiungibili... Adesso mi piace sto pezzo... Eh, io non l'avevo capito... Poi ha cambiato una sola parola... E ha fatto una scelta... La magia... Ma io l'ho capito... Ha diventato colpevoli... E lì è cambiato tutto... Io veramente l'ho capito solo adesso... L'avevo sottovalutato... Cos'è? Un anno che sottovaluto una bella canzone... Perché? Perché non me l'hanno interpretata bene... No, dillo! Eh, adesso non è anche colpa mia... Io so anche questo retroscena... Che magari Mangoni ci può confermare o meno... Io sapevo che... Vecchioni che ha fatto la copiata con la PFM... Prima la doveva fare con te... Poi la giuria ha detto che... In caso di vittoria... Sarebbe stato umiliante per gli altri concorrenti... Perché sarebbe stato un tale trionfo... E hanno detto... Guarda, se vuoi bene agli altri concorrenti... Non venire a Mangoni... È vero che... È vero... Senti Architec... Ti fa onore... Adesso non vorrei rivelare dei segreti... Ma mi è giunta a voce... Tu mi potrai confermare... Che ormai moltissimi cantanti... Anche stati internazionali... Vengono da te... Per farsi cantare la loro prossima canzone... Per farsi dare delle dritte... Cioè... Però spesso poi rimangono delusi... Perché io gliela canto... E poi loro non riescono ad arrivare... E allora... Alcuni non lo fanno più... Perché ero paura di essere messi... Di fronte ai propri limiti... Esatto... Sigla! Buonanotte... Buonanotte... Lino... Ah... Una bella sigla... Buonanotte... Questa notte è... Per te... Eh? Buonanotte... Buonanotte... Lino... Lino... No... Lino... Questa notte è... Stavo pensando... Sempre con le metafore legate alla vita quotidiana... Specialmente quella di noi giovani... Sì onde... Nella giornata di un giovane... C'è anche lì la sigla d'apertura... E la sigla di chiusura... Di chiusura spesso... Secondo me... Veditate gente... Veditate... Buonanotte... Grazie... Ciao... Ciao a tutti... 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 Ciao a tutti...